Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi come avete letto dal titolo parliamo di Yambal e facciamo lo spacchettamento della campagna 2. Mi sono arrivati due pacchettini di Yambal, un po' di cosine sono per me e un po' per le mie clienti. Volevo farveli vedere perché questa è una rubrica che voglio intraprendere, spero in modo costante, qui sul mio canale. Questa rubrica parliamo di Yambal perché voglio far conoscere appunto un po' Yambal a tutti voi, a chi mi guarda, dare questa opportunità come l'ho colta io. Chi mi segue da un po' sa che io è da tanto che entro in queste marche, diciamo così, queste aziende di beauty, skin care, make up, eccetera, perché vorrei un qualcosina di mio da quando ho lasciato il lavoro. Non ho mai avuto più di tanto successo, non ho mai sponsorizzato più di tanto, mi è sempre piaciuto fare i miei video spacchettamento, però Yambal è un mondo molto diverso rispetto alle altre aziende dove sono stata. Molto diverso perché è su misura per me. Tutte sono delle buonissime aziende, basta trovare però l'azienda che rispecchia quello che vogliamo noi, quello che siamo noi e io l'ho trovato in Yambal. Per questo voglio fare una serie di video, parlarvi un po' più nello specifico poi proprio anche dell'attività, per chi vorrà magari intraprendere questa attività, anche solo per uso personale, piuttosto che farvi vedere un po' i prodotti e farveli conoscere. Io ho un sito, tutte noi ovviamente che entriamo in Yambal, abbiamo un nostro sito dove le clienti possono entrare e ordinare direttamente i prodotti e poi ci sono invece i cataloghi cartacei che si possono ordinare, Yambal ne manda sempre qualcuno gratuito a noi consulenti, oppure si possono ordinare per darle alle clienti che invece vediamo offline, diciamo così. Si può svolgere bene l'attività in questo modo sia online che offline. Tra l'altro per le clienti che acquistano direttamente la spedizione è gratuita facendo un ordine a partire da 30 euro, quindi questo è un vantaggio secondo me notevole perché 30 euro stiamo parlando di una cifra importante ma non una cifra irraggiungibile e la spedizione gratis credo che sia un bonus che fa molto molto piacere. E poi per tutte le clienti che fanno il loro acquisto per la prima volta abbiamo un codice sconto che è Welcome10 scritto tutto in maiuscolo che dà diritto a un ulteriore sconto del 10% su tutti i prodotti che si acquistano. Allora Yambal è un'azienda latinoamericana esattamente peruviana presente da più di 50 anni sul mercato latinoamericano in Italia da poco, da un paio d'anni, lavora con questo sistema di network marketing ed è un'azienda che ha questi prodotti i cui ingredienti provengono quasi tutti dalla foresta amazzonica. Quindi sono ingredienti particolari, non tutti, alcuni sono ingredienti più sentiti come ad esempio l'acido ialuronico e poi ci sono ingredienti tipo l'unghia di gatto, il calice di bacche inca, la lucuma che sono ingredienti invece un attimino più esotici. Questa è una cosa che mi attratta tantissimo per questo ho voluto provare i prodotti. Innamorandomi poi dei prodotti ho deciso di chiudere tutti i codici che avevo precedentemente perché chi mi segue sa che io ho sempre amato questo questo mondo e tenere solo Yambal. Però parto con lo spacchettamento. Allora questo è il primo pacchettino che mi è arrivato allora ho messo una scenografia un po' arancione perché il colore di Yambal è l'arancione stiamo parlando di un popolo latinoamericano quindi un popolo caldo, un popolo latino dove c'è allegria e anche il colore devo dire che lo rispecchia molto mi piace molto. Allora in questa campagna ecco un'altra cosina Yambal lavora su campagne che cambiano ogni quattro settimane in queste campagne ci sono ovviamente dei prodotti in offerta che ogni quattro settimane cambiano ma che durante queste quattro settimane molto spesso si aggiungono altri prodotti. Allora parto con farvi vedere il primo prodotto che è lo shampoo alla lucuma che è questo ingrediente appunto che arriva dalla foresta amazzonica è uno shampoo anti età in questo caso è una delle tre linee che ha Yambal mi piace molto Yambal perché ha una serie di prodotti anti età dai capelli al viso al corpo che quindi per chi come me è una donna che comunque ha bisogno di un prodotto con una marcia in più può trovarlo veramente in tutto cioè ripeto dalla dai capelli corpo viso e anche nel make up importantissimo questo è uno shampoo in crema è molto molto buono io l'ho già provato mi piace tanto perché in questo momento non l'ho utilizzato l'avevo finito infatti l'ho ordinato perché lascia i capelli belli vaporosi li lascia belli idratati ma non li va a ingrassare qua sulla cute cosa fondamentale perché io ho un capello che si ingrassa facilmente quindi se vado a idratarlo troppo per avere le lunghezze belle idratate poi mi si va a ingrassare subito la cute con questo shampoo non mi succede quindi è una cosa veramente fondamentale è adatto appunto ai capelli anche colorati ai capelli comunque secchi o misti come i miei poi abbiamo ordinato per me la crema contorno occhi eccola qua i prodotti arrivano tutti sigillati anche questa è una cosa notevole questa crema è della linea extracto di vino che è una delle due linee anti età che ha iambal questa è una linea adatta a partire dai 45 50 anni dipende da appunto com'è la nostra pelle per una pelle comunque matura lei contiene questo ingrediente principale che è il calice di bacche inca che è un frutto che cresce nella foresta amazzonica che viene protetto da questo calice che contiene questa sostanza che hanno notato mantiene questo frutto molto molto giovane fresco a lungo quindi è stato impiegato nei prodotti di questa linea e in questa in questa campagna abbiamo in offerta la crema contorno occhi va a distendere molto le rughe aiuta con la disidratazione aiuta con la palpebra io ragazze non so chi mi segue da un po sa che io la palpebra molto cadente questi prodotti mi stanno aiutando tantissimo e soprattutto il mio avvicinarmi a iambal è stato per la skin care perché con la mia pelle che si irrita tantissimo con questi prodotti ho trovato veramente il paradiso cioè finalmente un prodotto che la mia pelle assorbe diventa più bella ogni giorno sta bene non si irrita non mi pizzica non mi crea occlusione non mi unge mi trovo veramente bene e questa è la cremina contorno è nel vasetto è anche bella ricca poi ragazze abbiamo preso io insieme a una mia cliente il mascara aspettate che lo metto dritto eccole qua sono due il mascara questo è il crease extreme uno dei quattro mascara che ha iambal e questo è il mascara anche curativo che oltre a abbellire le nostre ciglia aumenta anche la loro crescita è un mascara anche proprio di bellezza fa un nero intenso io stamattina ho dato proprio una passata veloce perché oggi non uscivo non andavo al lavoro né nulla però non mi piace stare a casa proprio senza make up però più ovviamente si danno un paio di passate l'occhio si intensifica di più il mascara è molto bello oppure anche solo una passata veloce ha questo effetto comunque che si nota insomma a me piace veramente molto è in offerta in due per uno e abbiamo approfittato appunto io ho una mia cliente di questa offerta anche qua iambalda la possibilità di avere queste offerte con gli sconti dal 20 per cento in su sul prodotto singolo oppure fa spesso anche i due per uno per chi già conosce i prodotti e vuole magari farne scorta poi ragazzi ho ricevuto due regali perché gli ambalda alle proprie style advisor ad ogni livello di vendita fa dei regali io ragazze sono sempre la stessa lavoro sempre nello stesso modo con gli altri network non raggiungevo mai nulla a parte le provvigioni che anche qui in gli ambalda le provvigioni sono dinamiche quindi più fatturo più la mia provvigione sale posso arrivare al massimo della provvigione nella stessa campagna e vengono rivalutate all'interno della campagna tutti gli ordini precedenti dove magari la provvigione era un attimino più bassa perché ovviamente essendo i primi ordini non avevo ancora raggiunto i vari livelli comunque quello che ci tenevo a dirvi che mi ha fatto proprio innamorare anche di questa azienda che io raggiungo sempre i due livelli di vendita mai successo prima in nessun'altra azienda dove sono stata perché gli ambalda è molto attenta coccola molto anche le piccoline passatemi questo termine perché le piccoline possono diventare grandi se facciamo premi solo per le grandi le piccole non le raggiungono mai si stancano e poi se ne vanno allora questo era confezionato con la sua plastichina a questa cartina è un astuccino con che si chiude a calamita e dentro ragazzi abbiamo quattro dei pennelli che a yambal un pennello per il viso e tre pennelli per gli occhi è anche un prodotto di vendita questo e costa 30 euro quindi il primo regalo che ho avuto a questo valore io posso tenerlo posso rivenderlo questo l'ho già scartato perché me lo tengo come tutti gli altri del resto e poi il secondo regalo che ho avuto perché ho raggiunto il secondo livello di vendita riguarda la bigiotteria tutta la bigiotteria yambal è bagnata in oro 24 carati vi arriva in queste scatoline col colore ovviamente dell'azienda hanno tutte questo panno in microfibra che serve per la pulizia dei gioiellini e io in questo caso ragazze ho avuto la collana con le perle adesso la indosso che ve la faccio vedere e un'altra cosa che mi stava sfuggendo questi premi io gli ho scelti tra quattro a disposizione avevo quattro premi relativi al primo livello tra cui scegliere e quattro premi relativi al secondo livello questa è collana è bellissima ha questo moschettone con vedete dei vari anellini per farla più lunga o meno lunga nostro piacere adesso la indosso io ho già un po di gioielli yambal guardate che bella ragazze adesso questa non mi ricordo quanto costava perché la gioielleria c'è in ogni campagna però cambia in ogni campagna sono diciamo edizioni limitate se poi rimangono dei pezzi in venduti insomma in stock vengono messi poi con degli sconti un attimino più interessanti però sono pochi pochi pezzi e poi ragazzi avevo tre campioncini perché anche qua in ogni campagna yambal con ogni ordine più che in ogni campagna regala due barra tre sacchè campioncini così e quindi io sono felicissima dei miei regali è arrivato oggi poiché san valentino direi che è una pacchia poi ragazze vi faccio vedere l'altro pacchetto che è questo qua arriva in questo modo e si presenta così con dentro questa specie di pagliettina che è in carta è tutta carta perché yambal è anche molto attenta all'ambiente quindi cerca di fare i packaging più bio possibili mi viene il termine bio più ecosostenibili possibili ecco questo è il pacco che arriva invece alla cliente è un pacco cliente questo che ho ricevuto tranne una cosa che è mia e vi arriva appunto così un attimino più carino questo pacco arrivano sempre i campioncini in questo caso alla cliente sono stati messi un profumo donna un profumo uomo e sempre due bustine un olio per il viso riparatore e uno scrub micro scrub per il viso quindi anche lei può provare i prodotti e mi ha ordinato la mia cliente una crema notte in questo caso che è in offerta in questa campagna questa è l'altra linea che ha yambal anti età si chiama elisir de vida è una linea questa base di resveratrolo è più adatta alle pelli giovani giovani intendo a partire dai 30 35 anni perché è anche diciamo una prevenzione per le rughe sono creme molto fresche ha un profumo proprio fruttato sono tutta la linea resveratrolo è molto fresca si assorbe bene io ragazze sinceramente la preferisco all'altra linea perché la trovo persino troppo per me l'altra linea nonostante io ho già 52 anni però la linea nera come la chiamo io quella del contorno occhi la trovo fin troppo ricca per la mia pelle però ho sempre detto di avere questa pelle molto reattiva con queste ragazze mi trovo da dio il contorno occhi lo utilizzo anche dell'altra linea ma al mattino preferisco quello di questa linea perché è molto più rinfrescante antiocchiaie è una linea fantastica ragazze anche qua dovrò spiegare alla mia cliente che si vedrà il barattolino di vetro mentre prima era di plastica sempre per il discorso di essere più eco sostenibile per il nostro ambiente mi ha ordinato anche lei la cremina occhi infatti ne ho due perché ha voluto approfittarne ho provato un campione gli è piaciuta molto l'esfoliante per il viso eccolo qua che ha dei microgranuli questo qua è un esfoliante per la pelle delicata lo utilizzo anch'io uno dei pochi che riesco ad utilizzare non mi dà fastidio a contiene l'acido glicolico ecco poi ci sono gli ingredienti sul sito quindi se una vuole acquistare un prodotto vede gli ingredienti e può decidere appunto se qualcosa gli da gli può dare fastidio insomma sappiamo conosciamo le nostre allergie e quello che può dar fastidio alla nostra pelle in questa campagna abbiamo in offerta i due sfoglianti sono uno per pelli delicate e uno per pelle invece miste e grasse e poi ci sono due tipologie di maschere un idratante antietà e una invece la maschera nera di pulizia sempre per una pelle invece impura e poi la bb cream eccola qua questa gli ho chiesto se potevo aprirla perché è qua un sigillino vedete già i pacchi aperti alcune cose non hanno più la plastichina perché stamattina ho fatto una diretta in facebook ne faccio veramente poche ma mi sono lanciata si presenta così la bb cream e ha questo tappino dosatore per poterla applicare volevo farvela vedere nel formato che ho io che è una mini size eccola qua perché è altra cosa particolare che a yambal che mi piace molto permette a tutte le clienti di ordinare le mini size dei prodotti io l'ho applicata stamattina la mia mini size e ho intenzione di comprarla non l'avevo ancora acquistata la bb cream si presenta così vedete un colore piuttosto scuro eccolo qua che uno appena messo dice mamma mia come scura invece vado a spalmarla guardate come si spalma bene di un soffice ragazza è fantastica ed è una bb cream camaleontica cioè lei va a prendere il colore della nostra pelle si va mi viene amalgamare non è proprio un termine molto di beauty insomma però è più una roba di alimentazione però ecco vedete come si prende bene il colore della nostra pelle hanno tutti dei profumi molto delicati poi tutti i prodotti yambal contengono una grande percentuale di principio attivo sono prodotti anche proprio curativi per questo motivo guardate la differenza direi che si nota si nota tanto io l'ho messa questa mattina poi un pelo di fard un pochino di mascara e poi vabbè il rossetto si può trovare nella versione idratante o nella versione mattificante il colore ripeto è unico che poi va adattarsi su tutte le pelli e direi che si vede e cosa dirvi ragazze volevo farvi vedere anche questa che è la nuova palette che ha lanciato iambali in questa campagna io avevo già fatto un ordinino ma con solo la palette perché la volevo subito 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 hanno lo specchio otto ombretti guardate che meraviglia ragazze sono bellissimi questa è l'ultima palette che ha lanciato iambal tra l'altro sono tutte in offerta abbiamo cinque tipologie di palette il catalogo ripeto piccolino con tutti i prodotti in offerta di skin care di make up ecco quale palette per esempio e questa è quella nuova le altre hanno la confezione nera abbiamo poi il nostro mascara con questo scovolino anche sferico per andare a prendere anche le ciglia più piccoline eccolo qua ve lo faccio vedere anche lui mascara mi raccomando ragazze muoverlo mai fare avanti e indietro muoverlo mai pulirlo così io una cosa che facevo sempre ma si seccava in frettissima vedete a questo scovolino dove tiene tantissimo prodotto e va veramente a farvi un nero fantastico e questo ripeto in offerta con il due per uno quindi se ne paga uno se ne ricevono due iambala tantissimi orecchini tantissima bigiotteria tutte le volte la bigiotteria viene invece disegnata e prodotta a new york hanno questo questo studio a new york dove fanno tutti i nostri gioielli mentre i profumi vengono prodotti in francia da profumieri francesi non sono imitazioni sono proprio profumi che nascono per iambala questa campagna viene lanciato olala in occasione del san valentino che è una fragranza vi dico un aroma romantico si apre con la succosità del lampone un piacevole cuore di peonia rosa su un fondo di vaniglia è un aroma fruttato gourmet ed è in offerta 36 euro ecco per dirvi un prezzo le palette ad esempio costano 24 euro e 50 il mascara 25 euro ma essendo in due per uno è come se costa 12 euro e 50 cioè la palette ragazzi è bellissima poi io non faccio molti make up particolari ma chi si zucca ama truccarsi ama fare le sfumature eccetera devo dire che sono fantastici fantastici non fanno fallout comunque non volevo fare un video lunghissimo già è troppo lungo voglio ripeto intraprendere questa rubrica parliamo di yambala oggi vi ho fatto vedere lo spacchettamento vi ho dato un po tutto un'infarinatura poi se avete domande eccetera scrivetemi lasciatemi un commento se volete informazioni più precise però bandatemi una mail poi nell'info box vi lascio scritto tutto perché almeno riesco a rispondervi meglio insomma che sul commento riesco anche a mandarvi delle foto se serve eccetera io vi ringrazio per aver guardato questo video vi auguro una buonissima serata oggi lunedì ed è san valentino il 14 febbraio auguri a tutti gli innamorati di qualsiasi persona innamorati dei cuccioli intendo i cuccioli umani e cuccioli pelosetti tutti amiamo qualcuno quindi è la festa veramente di tutti secondo il mio punto di vista io ho festeggiato facendo un regalo solo a mio figlio per dirvi però è così ognuno festeggia come vuole adesso vi mando un bacione vi auguro una buona serata e ci vediamo coi prossimi video ciao